Musica Ciao, il nostro progetto si chiama Angela Bianco e Gastro Minquartet, formazione di musica etno-popolare con sede a Soveria Mannelli, città di cultura, innovazione e tradizione. Proprio innovazione e tradizione sono il nostro obiettivo. Uniamo la nostra passione per la musica popolare ad una macchina mediatica unica nel suo genere. Io sono Angela Bianco e sono la voce e la danzatrice del gruppo. Mi accompagnano in questa travolgente esperienza Fabio Malomo, alla classe Tamburelli, Giuseppe Mazzotta, percussioni etniche, Gabriele Perrelli, fisarmonica e pianoforte, Carmine Mazzotta, voce e chitarra ed Antonio Abruzzese, general manager, che cura il nostro booking e la nostra promozione. Proponiamo uno spettacolo coinvolgente all'insegno del divertimento e della buona musica tradizionale calabrese, in un format studiato per le piccole location e alla portata di tutti, quindi richiestissimo in questi periodi. Questa sera siamo stati a Catanzaro, in occasione dell'89esima festa dell'UVA organizzata dalla Proloco di Catanzaro, guidata dal presidente Filippo Cabellupo ed assistito dall'infaticabile Piena Sabato. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Stato Abramo, coorganizzatore dell'evento, per averci voluto qua con loro. Infine un ringraziamento doveroso a Valle Forze dell'Ordine e a tutto lo staff organizzativo, alla ditta Giuseppe Macrillò per la consulenza negli appellati audio-luci, alla web tv Liberi TV, che ci segue durante la nostra tournée, ma soprattutto ai graditi ospiti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.